La festa del papà spopola sul web e Google dedica il suo doodle. Il babbo si festeggia in date diverse in varie parti del mondo. In Italia e nei paesi cattolici si celebra il 19 marzo e il giorno di San Giuseppe. I primi a celebrare la ricorrenza furono i monaci benedettini. Negli Stati Uniti invece l'istituzione della festa si deve a una donna. Occhi puntati dunque su tutti i papà del mondo. In tanti oggi sulla rete sociale di Facebook hanno postato le foto con i propri babbi ricordando l'infanzia e i momenti indelebili della vita. A qualcuno è scesa anche qualche lacrima perché avrebbe voluto il suo papà vicino a sé. Per i sulmonesi la paternità resta qualcosa di significativo. Il ruolo della famiglia nella società è cambiato, sostengono a donna TG, ma diventare padre è il più grande regalo che si possa ricevere dalla vita. Per i figli sulmonesi la figura paterna è invece fonte di sicurezza e guida nel cammino della vita. Una grande soddisfazione specialmente per i miei due figli André e Simone che mi danno tanta tanta felicità. È un ruolo importante per la famiglia e comunque anche per la società in tutto insomma. È un ruolo bellissimo o meglio dovrebbe essere bellissimo. Io sono un fortunato perché sono padre due volte, nonno tre volte, quindi è una funzione bella. Il papà è una figura fondamentale innanzitutto perché rappresenta una di quelle metà del contesto familiare che sono i genitori che sostanzialmente ti accompagnano per tutta la vita. E poi è una figura che un po' riempie la vita di tutti quanti di amore, di sicurezza, si preoccupano per noi, si impegnano affinché la nostra vita sia il più facile e il più comoda possibile nonostante ci siano tanti contesti di difficoltà. Quindi diciamo che il papà è una figura fondamentale. Essere papà è la cosa più bella del mondo ed essere nonno è ancora più bello. Io sono papà e nonno. È fondamentale sicuramente, è un pilastro insostituibile sia della società che della famiglia.